La pasta alla carbonara è ormai diventata famosa in tutto il mondo, è un piatto abbastanza semplice da preparare, tuttavia è altrettanto facile creare dei disastri, quindi oggi vedremo la scienza della pasta alla carbonara. Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole Chimico di Quartiere. Mesi fa ho pubblicato un video sul limoncello scientifico e ha avuto molto molto successo, e quindi ho pensato di proporvi un'altra ricetta scientifica, in questo caso la carbonara scientifica. Vedete infatti che oggi non indosso il mio solito camice bianco, ma indosso il grembiule da cuoco dell'ufficiale scientifico della flotta stellare. Molti di voi probabilmente sanno che io da un sacco di tempo analizzo scientificamente delle ricette, in particolare sul mio blog nel lontano 2008, quindi più di dieci anni fa, ho analizzato scientificamente la carbonara scientifica e quindi ho pensato di riproporvela. Vi metto il link qui sotto in descrizione del blog, se volete leggere l'articolo trovate anche la caccia di pepe scientifica se vi interessa e tante altre cose. Questo video è fatto in collaborazione con Jacopo Saquegno, per cui sarà parzialmente disegnato, quindi fatemi sapere poi sotto nei commenti se l'idea vi è piaciuta. Metto subito le mani avanti e vi dico che questa è una delle infinite varianti o versioni della carbonara e voi probabilmente usate degli ingredienti diversi, delle proporzioni diverse, delle procedure diverse. Tuttavia i principi scientifici valgono per qualsiasi variante voi vogliate fare, quindi questo video credo che vi sarà comunque utile anche per ottimizzare la vostra carbonara. Quali sono queste varianti? Beh, ci sono varianti innumerevoli per esempio sugli ingredienti. Tradizionalmente si fa con la pasta lunga, io per esempio la faccio di solito con i bucatini, però anche con la pasta corta secondo me ha un suo perché, ho provato a farla e va benissimo. C'è chi usa il pecorino rigorosamente perché dice che è tradizione e chi invece preferisce il parmigiano. Fatelo come volete, secondo me ci sono differenze ma sono buone entrambe. C'è per esempio chi dice che bisogna usare assolutamente il guanciale perché è tradizione. Le cose in realtà sono un po' più complicate ma la storia della carbonara la vedremo in un altro video magari se vi interessa. Chi invece usa per esempio della pancetta? Quindi anche qui fate come volete, non entro nella discussione. C'è chi usa come me per esempio solo i tuorli, io uso solo tuorli. C'è chi usa invece anche l'albume o come uovo intero oppure con una certa proporzione tra tuorli e albumi. Anche qui fate come volete, secondo me con il tuorli ha un gusto più pieno ecco. Però fate anche qui come come volete. C'è solo una cosa su cui io non transigo nella carbonara che è la panna. La panna se uno segue i dettami scientifici di come si deve fare non è assolutamente necessaria. Infatti molte persone dicono di usare la panna perché altrimenti la carbonara non viene cremosa. In realtà c'è il modo, e ve lo faccio vedere, di fare una carbonara assolutamente cremosa senza usare la panna. Ma vediamo la scienza coinvolta che servirà a mettere a punto la vostra carbonara. Una pasta alla carbonara come Dio comanda deve essere cremosa. Non stiamo facendo una frittata e quindi il controllo della temperatura che raggiunge il tuorlo è assolutamente cruciale. Se utilizzate anche degli albumi ovviamente vi interessa anche la temperatura di coagulazione degli albumi. L'uovo andrebbe cotto alla temperatura di coagulazione delle proteine che è sempre minore di 100 gradi. Ci sono diverse proteine nell'uovo e ognuna coagula a temperature diverse. L'ovotransferrina nell'albume per esempio comincia a coagulare a 62 gradi e diventa un solido morbido a 65. Poiché l'ovotransferrina costituisce solo il 12% delle proteine dell'albume, questo rimane morbidissimo a questa temperatura. Il tuorlo invece comincia a inspessire proprio a 65 gradi per diventare solido e progressivamente sempre più farinoso dai 68 gradi in poi. Avete presente l'uovo sodo? Ecco, non volete avere questa consistenza nella vostra carbonara. Quindi la pasta alla carbonara quando aggiungete l'uovo deve avere una temperatura tra i 65 gradi e i 70 gradi. Come possiamo fare? Beh, c'è una soluzione semplice e una un po' più, diciamo, tecnica che però richiede l'uso di un termometro che purtroppo ancora molte persone non hanno. In realtà un termometro da cucina a casa ormai costa pochissimo ed è fondamentale se non volete avere un arrosso stoppaccioso o un roast beef che invece di essere dentro rosa come dovrebbe è diventato grigio o marrone. Quindi fatevi un favore se volete cucinare in modo, insomma, efficace e scientifico e compratevi, investite 10 euro per un termometro digitale. Una soluzione empirica che però è abbastanza efficace e che io uso continuamente consiste nell'utilizzare il calore residuo della pasta appena scolata, quindi con ancora un po' di acqua sulla superficie, per portare la temperatura dell'uovo tra i 65 e i 70 gradi in modo tale da farlo rimanere cremoso. Questo gioca anche sul fatto che la coagulazione non è un fenomeno immediato a queste temperature, per cui quando aggiungiamo la pasta all'uovo e mescoliamo, pian piano si raffredda la pasta e contemporaneamente l'uovo si scalda, ma se facciamo le cose come si deve rimarrà cremoso. Ovviamente assolutamente vietato ripassare la carbonara in padella una volta che abbiamo aggiunto l'uovo, e questo perché le temperature aumentano velocemente e a mano a mano che ci avviciniamo a 100 gradi l'uovo coagula e perde l'acqua interna e quindi abbiamo veramente una pasta con la frittata che non ha niente a che vedere con la carbonara, ma veniamo agli ingredienti. Io utilizzo 80 grammi a testa, c'è gente che ne usa molti di più, ma per me 80 grammi vanno bene, poi utilizzo due tuorli e solamente i tuorli per persona, utilizzo poi 40 grammi di formaggio che può essere pecorino romano o parmigiano o una miscela di due. Di questi 40 grammi 30 li uso all'inizio e gli altri 10 li spolvero poi quando servo il piatto. E poi abbiamo 40 grammi circa di guanciale, che io preferisco, oppure di pancetta. Potete abbondare anche un po' col guanciale secondo me che è buono, ecco. E alla fine immancabile del pepe nero macinato al momento, pepe fresco. Assolutamente non usate del pepe già macinato. Tagliate il guanciale o la pancetta a dadini o fiammiferi. Insomma fate dei cubetti di 5 mm di lato o anche un po' di più, oppure dei piccoli parallele ppd a base quadrata, sempre tra i 5 e 10 mm di lato e alti a piacere. Mettetelo in un padellino antiaderente e scaldate a fuoco dolce per far sciogliere il grasso. È meglio usare l'antiaderente perché se utilizzato in un padellino di metallo rischia di attaccarsi. Se usate il guanciale, che è più grasso della pancetta, non dovrebbe aver bisogno di un'aggiunta di olio iniziale, mentre se usate la pancetta, che è più magra, magari per evitare che brucia all'inizio potete aggiungere un pochettino di olio. Proseguite a soffriggere fino a quando i pezzettini cominceranno a essere un poco croccanti, però non secchi e il grasso deve essere solido ma quasi trasparente. Mentre il grasso si scioglie, aprite le uova, separate gli albumi e mettete i tuorli in una bacinella capiente, nella quale poi alla fine butterete la pasta. Macinate del pepe abbondante. Gli albumi li potete congelare e riutilizzare per fare delle meringhe o altri dolci. si congelano benissimo. Io li metto nei contenitori del ghiaccio, per cui ho delle monoporzioni di albume che poi alla fine tolgo e utilizzo da aggiungere una frittata per fare dei dolci. Sbattete leggermente le uova e aggiungete il formaggio cracchiggiato. Mescolate per amalgamare bene e se vi viene quasi solida probabilmente avete aggiunto tanto formaggio o i tuorli erano piccoli, ma non vi preoccupate perché poi e dopo andrete ad aggiungere ancora la pasta con un po' di acqua, per cui si stempererà. Cuocete la pasta in abbondante acqua, non troppo salata, perché c'è già il pecorino e il formaggio che sono salati. La pasta va tenuta al dente. C'è chi una volta scolata la pasta molto al dente la passa un minuto o due nella padella dove ha fatto sciogliere il guanciale o la pancetta. Io preferisco non farlo perché se la pasta si ricopre di olio o di grasso, poi l'uovo avrà più difficoltà ad aderire alla superficie della pasta, quindi io questa cosa preferisco non farla. Prima di scolarla prelevate con un mestolo o un mezzo bicchiere di acqua di cottura e tenetelo da parte perché questo vi potrà servire nel caso quando avete aggiunto la vostra pasta alla ciotola sarà ancora l'uovo troppo duro perché magari le tuorli erano troppo piccole. Ora c'è il punto cruciale. Con un forchettone prelevate i bucatini o gli spaghetti o la pasta che avete utilizzato dall'acqua e direttamente scolandoli un pochettino ma senza scolare completamente gettateli nella bacinella dove avete messo la miscela con l'uovo, il formaggio e il pepe e velocemente cominciate a mescolare. Come vi dicevo prima il calore che è ancora presente sia nella pasta sia nell'acqua che vi trascinate dietro comincerà a far coagulare ma solo parzialmente l'uovo, quindi cominciate a mescolare bene che diventerà bello cremoso. Come vi dicevo prima nel caso sia tutto molto molto asciutto allora potete aggiungere pochissima di quell'acqua che avete salvato precedentemente ma state attenti perché altrimenti vi viene una roba troppo liquida. Ovviamente se invece di usare solo il tuorlo avete usato anche un uovo intero o gli albumi beh a questo punto l'aggiunta dell'acqua è assolutamente superflua. Se avete utilizzato della pasta corta, ovviamente non potete prenderla con un forchettone prendetela con uno scolapasta però fate attenzione a non scolarla completamente e quindi aggiungetela alla bacinella. Mescolate velocemente e a questo punto potete aggiungere il guanciale o la pancetta insieme a almeno una parte del suo grasso. Insomma la carbonara non è proprio un piatto salutista ecco quindi insomma fate attenzione un po' perché c'è il formaggio, c'è l'uovo e anche il grasso, io cerco di eliminarlo la maggior parte però insomma molti lasciano utilizzano anche tutto il grasso che ha perso la pancetta o il guanciale. Finite di mescolare bene e servite in tavola, spolverate sui piatti singolarmente il formaggio rimasto e non mancate di far notare che è cremosissima ma non avete usato la panna. Io la faccio sempre così, è molto facile, però se non siete sicuri oppure se state preparando la pasta per 8 o più persone e quindi temete di non riuscire da soli a mescolare e fare tutto il magheggio beh allora a questo punto potete preparare in una bacinella a questo punto di metallo perché la dovete scaldare a bagnomaria e con un termometro mentre mescolate il formaggio e il tuorlo portatelo a 62-63 gradi e quindi a questo punto il tuorlo è già in temperatura e quando aggiungerete la pasta finirete di preparare la carbonara. Mi raccomando, ancora una volta, non ripassatela in padella. L'altro ingrediente della carbonara che ha qualche curiosità scientifica è il pepe. La sostanza che rende pizzicante il pepe è la piperina che è un alcaloide. Gli alcaloidi sono una famiglia di molecole naturali che troviamo in tantissime piante che hanno normalmente un effetto fisiologico. Appartengono alla categoria degli alcaloidi, non so, la nicotina, la morfina, la caffeina... ecco ci sono tantissime di queste sostanze che hanno un effetto fisiologico. L'effetto fisiologico della piperina è quello di dare questa sensazione di pizzicore in bocca. Attenzione però che è diversa dalla sensazione che abbiamo per esempio quando mangiamo il peperoncino. Il peperoncino contiene la capsaicina che ha un meccanismo d'azione diverso. La capsaicina inganna i sensori della temperatura nel nostro corpo, nella nostra bocca, e fa credere che la temperatura sia molto più alta di quella che è in realtà e quindi manda un segnale al cervello dicendo oi guarda che qui abbiamo superato i 40, i 50 gradi e quindi noi crediamo e di fatto lo sentiamo che ci sia una temperatura molto più elevata rispetto a quella che veramente è. In realtà invece la piperina agisce con un meccanismo abbastanza diverso. La piperina agisce sul nervo trigemino, quindi di fatto, avete presente quando avete il mal di denti, ecco, quindi di fatto causa una irritazione blanda, locale, che irrita il nervo trigemino che manda quindi poi i segnali al nostro cervello. Il motivo per cui il pepe va macinato al momento è che le sostanze, anche le sostanze aromatiche perché il pepe non ha solo la piperina, si ossiano abbastanza facilmente per cui macinare al momento il pepe come tante altre spezie è una cosa che può migliorare di sicuro la qualità. Con questo abbiamo finito. Spero che vi sia piaciuto questo esperimento un po' in video e un po' disegnato grazie al mio amico Jacopo Saquegno. Fateci sapere se vi è piaciuto l'esperimento e un saluto dal vostro amichevole chimico di quartiere, oggi in versione Cuoco della Flotta Stellare. Ciao!